Se noi parliamo anche con questo microfono e con una telecamera che qui in wireless si deve proprio a Marconi. Marconi è l'inventore del broadcasting, del wireless e di tutto quello che riguarda la telecomunicazione via etere. Al MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, sono esposte a parecchiature originali che ricordano i primi successi di Guglielmo Marconi, l'inventore del radio. Un'esposizione in occasione dei 150 anni dalla nascita dello scienziato ma che celebra più in generale le telecomunicazioni. Nel 2024 si celebrano infatti anche i 100 anni dalla radiodiffusione in Italia i 70 della televisione ed adesso per il Museo Aretino è arrivato un importante riconoscimento. Il Museo di Arezzo è stato inserito in tutte le manifestazioni marconiane che vengono fatte a livello nazionale in accordo con questo comitato tecnico scientifico che il Ministero dei Beni Culturali ha istituito proprio per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. Abbiamo mandato tutto il nostro programma, quindi la mostra che è stata inaugurata il 15 febbraio quando ancora il comitato era da istituire e che comunque noi abbiamo già fatto questa cosa come esperimento abbiamo mandato le fotografie, abbiamo mandato una parte del convegno che abbiamo fatto e in più dopo abbiamo realizzato per la parte Rai, per esempio questi televisori che voi vedete accesi sono televisori degli anni 50 che giustificano anche l'importanza dei 70 anni di radio di Rai in Italia. In più dopo la mostra che è quella che parte da Guglielmo Marconi dai suoi primi esperimenti e si sviluppa con lo sviluppo della radio, della radiofonia, praticamente da quella valvole passa a quella transistor come noi qui abbiamo, dai transistor a quelli miniaturizzati addirittura ancora più con i microprocessori che sono quelli che hanno consentito anche di mettere in tasca anche il televisore e quindi abbiamo oggi nel cellulare sia la radio sia il televisore sia tutto quello che riguarda la comunicazione e che praticamente è un fatto di cambiamento sociale che la radio rappresenta il mondo in tasca. Questo è il titolo del libro che io ho scritto di 350 pagine che ha contribuito ovviamente ad essere creduto come serietà di manifestazioni che abbiamo fatto qui ad Arezzo e il titolo è il mondo in tasca e che è il titolo anche di tutte le manifestazioni che noi faremo per tutto l'anno. Grazie. Grazie.